E siamo alla finale del singolo femminile tra l'Alep e la Priscova, cioè tra la numero due al mondo e la numero quattro al mondo. Qui l'Alep è la testa di serie numero uno. E quindi aspettiamo che entrino in campo per giocarsi in 3-7 il Trovello Internazionale d'Italia. E un altro grande applauso per Simona Adeb. Vai Simona. L'Alep è la 2, la Priscova è la 3, la 2, la Priscova è la 3, la 3. L'arbitro che dà le ultime istruzioni alla Priscova e all'Alep. E l'Alep porta a casa il primo 7, 6-0, secco secco, la Priscova non si è vista. E con le tue finaliste che per favore invito a presentarsi. Gris Carolina, Gris, Simona anche di Gris. Bene, vai troppo in Gris. La partiamo. La partiamo, la partita finale, purtroppo, non finita, ma con due protagoniste eccezionali del tennis mondiale. Come dicevo con le tue finaliste, una leggenda del tennis, colui che incarna lo spirito di questo torneo e che quest'anno il torneo festeggia i 90 anni dalla sua creazione. Per favore, un applauso per Nicola, Jimena. Jimena! 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 Jimena. 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 La Priscova si è ritirata. al di là dovremmo avere carola e vittoria come ricordate carola vittoria sono le due ragazze che hanno dimostrato al mondo intero con un video che è diventato subito virale come il tennis possa essere un simbolo di residenza e di voglia di rinascita facciamo un applauso di questa pandemia e quindi sono anche il nostro simbolo grazie carola grazie vittoria ora la creazione finalista dei libri internazionali italia 2020 carolina visto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti ovviamente di essere venuti qua è molto contenta che voi ci siate stati in questo finale e ha fatto un'ultima settimana e poi ovviamente ha congratulato simona che è stato troppo forte per lei quest'oggi e ovviamente peccato per i suoi fortuni grazie a tutti 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 perché è stato anche difficile fare un'elezione del torneo così importante in questo momento così diciamo difficile e quindi ovviamente ringrazio a tutti alla seconda finale a roma consecutiva e contentissima di essere qui e sarà l'anno prossimo con noi sicuramente e noi ti aspettiamo grazie a tutti grazie a tutti grazie grazie ancora chiaramente adesso la vincitrice numero uno al mondo simona un po' di finale qui, finalmente con il titolo, finalmente il titolo, prego grazie per arrivare, è stato bello spaventare oggi con alcuni crowd prima di tutto ringrazio al pubblico, è stato importante che voi siete state qui solo sabato e domenica purtroppo ma è stato molto importante per i giocatori mi sono sentita bene con voi in campo e quindi vi ringrazio anche in questo momento di difficoltà e anche un po' di instabilità di essere venuto a sopportarci brava grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti so che non è stato il miglior modo per finire questa finale per lei però ha avuto una grande settimana e spera che ovviamente che si rimetta subito in modo che gli internazionali di Francia, quindi a Parigi si possano ritrovare magari in finale grazie a tutti 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 e sono molto felice che abbia questo bellissimo trofeo in mano. Grazie a tutti per il tournament, vorrei dire un grande grazie perché hanno fatto questo tournament molto bene e in queste condizioni non è facile, ma siamo stati sicuri e siamo stati molto bene nella scuola e fuori dalla scuola, anche se siamo stati molto nella scuola. Abbiamo fatto questo perché vogliamo giocare in tournament, quindi grazie a tutti, grazie al tournament director per i pazienti con noi e per tutto ciò che ha fatto questa settimana per noi. Ha ringraziato gli organizzatori anche lei per la difficoltà, ma la quale tutti ci siamo voluti raccontare con questa pandemia, il fatto che comunque sono dovute stare molto spesso in albergo, però si sono sentite al sicuro, questo è molto importante per loro ed è molto importante per ovviamente il torneo. Quindi ha ringraziato tutti, specialmente il direttore me e tutto il suo staff. Quindi grazie molto, Simona, thank you. Forse, forse, il mio team, vi ringrazio per il football team. Devo mi ammettere al team che mi ha supportato, per il primo gruppo intero, anche con il suo team intero. Allora, grazie, grazie molto molto. Inoltre, supportate, le loro, ti chiedi anche per la flower, sono vero, te lo scusse. Non ho vero, grazie molto. Grazie a tutti. Ci sono 책i, Simona, Ale. Grazie Un applauso grandi signori a Simona Alec e Carolina Cristobal Grazie Un applauso grandi signori a Simona Alec e Carolina Cristobal Grazie E così siamo arrivati alla finale del singolare maschile numero uno al mondo gioco del 13 al mondo L'argentino Schwarzman E così siamo alla finale del singolare maschile tra Schwarzman e Djokovic Tutti e due in rosso No, le numero uno al mondo Schwarzman numero 13 Grazie 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 Sono 7-5 il primo set per Nole Djokovic Grandissimo primo set da parte di tutti e due Ma la legge di Nole non perdona Grazie 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 a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.